Continua l'assalto delle multinazionali del petrolio al territorio lucano. Dopo la Total che ha chiesto di effettuare ricerche di idrocarburi nell'area di Gallipoli Cognato, la OLA, Organizzazione Lucana Ambientalista, mette in guardia, a seguito dell'avviso pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata, lo scorso 16 settembre 2012, con cui la società Edison S.p.A. si appresterebbe a ricevere parere positivo per lo screening per la concessione di coltivazione di idrocarburi Garaguso. L'avviso dello studio della Edison, spiega la OLA, si riferisce al progetto di acquisizione di un rilievo sismico articolato su quattro profili per una superficie complessiva di 37 km2 ricadente nei comuni di Garaguso, Salandra e San Mauroforte nel Materano e finalizzato alla successiva e conseguenziale fase di perforazione di nuovi pozzi esplorativi che si aggiungeranno ai quattro pozzi già produttivi e a un pozzo attualmente non erogante ma attivo. Alcuni nuovi pozzi saranno inoltre realizzati all'interno di aree protette regionali, aree tutelate dall'Unione Europea, dove sono vietate attività in contrasto con i valori ambientali. Nonostante la cosiddetta moratoria De Filippo, l'ufficio compatibilità ambientale della Regione Basilicata, secondo alcune informazioni locali in ambito comunale, aggiunge l'associazione, si appresterebbe a rilasciare parere positivo all'Edison Gas Plus. La Ola sollecita quindi la convocazione urgente della conferenza dei servizi e chiede di fare chiarezza su quanto sta accadendo.